Ciao a tutti da Manolo di Cocoa.com e oggi parliamo di un libro di David Wolff e Scherzi Il cioccolato ti fa bene, dove parlo ovviamente di cioccolato. Siamo a Milano ed è un'insolita bella giornata, addirittura si vedono le montagne nel fondo e quindi ho deciso di parlare un libro che fa un po' a tema, ovvero il cioccolato. In questo libro David Wolff e Scherzi parlano del cioccolato che fa bene. Quando dicono cioccolato intendono il cacao puro, quindi il raw, che si trova soltanto in negozi specializzati quindi immagino negozi bio oppure alcuni negozi online che spiegano loro e fanno una lunga serie di disquisizioni sul cioccolato. Parlano di quanto faccia bene, sfatano alcuni miti, quindi sul mal di testa, sul fatto che fa ingrassare sul fatto dei pruncoli, dicendo che tutte le qualità del cioccolato, che è un vero e proprio cibo degli dei come veniva chiamato nelle cività precolombiane in Sud America, viene rovinato durante la lavorazione quando vengono aggiunti zuccheri e altri materiali non consoni che addirittura distruggono le proprietà nutritive. Se invece il cioccolato viene preso puro o comunque in combinazione con delle ricette che alla fine del libro spiegano bene con tendenzialmente diciamo ricette crudiste, il cioccolato non soltanto è buono, non soltanto fa bene ma è addirittura una delle sostanze più curative, è un vero e proprio supercibo. Wolf è molto famoso per parlare, per aver promosso i supercibi, il suo libro Sun Food è uno dei libri da leggere se siete interessati al nutrimento dal punto di vista crudista e in questo libro ne parla come si può utilizzare in contemporanea col cioccolato. Cos'altro dire? Non soltanto parla di ricette, non soltanto sfatta i miti ma dà anche un bel po' di informazioni curiose quindi quali sono, se c'è la caffeina, i latticini, gli antissodianti. È un libro decisamente interessante, mi ha fatto sorridere più volte quando ho scoperto che c'è qualcuno che è più diciamo dipendente di me dal cioccolato, come potete capire dal nome del mio sito che è Cocoa sono un grande amante del cioccolato e quindi a me ha fatto molto piacere leggere questo libro e mi ha fatto piacere scoprire che c'è altra gente che gli piace il cioccolato e gli piace investigare sul cioccolato. Dico questo perché ovviamente non è un libro essenziale secondo me il suo libro Sun Food che non è stato tradotto in italiano credo non è necessario, è più importante di questo libro diciamo però se amate il cioccolato o se avete qualche persona che ama il cioccolato questo secondo me potrebbe essere un libro da regalare non costa tanto, costa 10 euro, è molto interessante, si legge in fretta ed è un libro che si può rileggere oltre ad avere le ricette. Tutto sommato vi do un bel 3 stelle su 5 se siete amanti e volete fare un regalo è un bel libro da regalo David Wolff e Shazzy, il cioccolato che fa bene in inglese naked chocolate tanti saluti da Manolo di Cocoa.com Al prossimo episodio Grazie a tutti. Grazie a tutti.